ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale oggi volevo farvi un video aggiornamento sui miei insetti stecco sono nati praticamente quasi tutti anni questo è il più grande praticamente il primo che mi è nato è un po' agitato è una bella colorazione gli altri praticamente li ho ceduti li ho ceduti tutti ai miei amici e mi sono tenuto due esemplari adesso sta facendo la cacca in diretta che però sono veramente belli a me piacciono un sacco anche perché sono molto svegli quello che avevo prima purtroppo è morto ma perché l'avevo già comprato adulto e più di un anno più o meno non ti resistono spero che questo video aggiornamento vi piaccia aumenta un sacco di progetti su sugli insetti e anche su altri animali che poi vedrete comunque ecco volevo mostrarvi anche questa cosa qua che è il loro metodo di mimetismo che simulano praticamente l'oscillazione di una foglia o di un rametto quando c'è vento quindi adesso gli soffierò e vediamo la loro reazione ecco come vedete lui uscilla non so se avete visto adesso lo faccio vedere più da vicino adesso lo rifaccio non fate caso alle come vedete un pezzo di cacca incollato comunque non fate caso alle piantine perché queste qua sono piantine praticamente marce di un cambio glielo cambiate intanto le ho messi qua per fare il video comunque ragazzi consiglio a tutti veramente di prendere questo insetto come animale di tenerlo di allevarlo perché è veramente facile ma è anche secondo me soddisfacente a me piace un sacco praticamente non devi neanche seguirlo mangiare gratis perché mangiare le foglie lo cambio una volta a settimana ma fai più lucissimo se c'è sotto i tovaglioli oppure vabbè ti fai un substrato coltericcio e vabbè io preferisco così perché comunque punto a raccogliere le uova farle schiudere e poi regalarle quindi se in futuro avrò delle uova e qualcuno di voi le vorrà io vi anticipo di già in questo video che le regalerò quindi da mike è tutto rimanete aggiornati per altri video sugli insetti o un bel po di progetti sia su insetti che su altri video vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto un saluto e alla prossima